Maurizio Borges, schiacciatore brasiliano, al servizio la ricezione di Randazzo, Falaschi per Randazzo, è un di Vivo Valenze, primo punto quindi del servizio, è proprio lui, batte in salto la ricezione sempre di Randazzo, Falaschi la pipe, ricezione di Douglas, Sabi la pipe, sempre per Douglas, ancora con Douglas, Sousa al servizio, più tre, ricezione di Pochini, Falaschi per Sabi, il muro, Monster Block di Maurizio, e credo che arrivi infatti il primo time out di Vincenzo Di Pinto, in servizio proprio il capitano con la maglia numero 5, eccezione di Douglas, Saita per Nishida, tiene il muro, grande, difesa di piede di Pochini, palla dall'altra parte della rete, contraattacca per il break, facile di Flavio, c'è qualche scaramuccia sotto rete fra i brasiliani, primo tempo di Flavio, eccola qui nel replay, qui Randazzo in bagger, lancia dall'altra parte della rete, poi è facile, 19-24, riceve Pochini, Falaschi, primo tempo di Di Martino viene tenuto a muro e può contraattaccare Vivo con Douglas Sousa, che conquista il primo set, proprio lui, Rizzo, la pipe chiamata da Saita con Maurizio, Maurizio, riceve Maurizio, così è così, Rizzo in palleggio per Douglas, è ancora un punto, con questi attacchi, servizio proprio di Martino, riceve a mani aperte Maurizio, poi ancora un primo tempo, chiamato da Candellaro, ma tiene Taranto, Randazzo, gran difesa di Maurizio e poi il contraattacco di Douglas, rappresentativi della città di Taranto di Vivo Valenza, della Puglia e della Calabria, vogliamo ragionare in termini di regione, tanto trova subito il cambio palla Maurizio, Saita, riceve Male Randazzo, Palonski, può solo appoggiare dall'altra parte della rete Taranto, free ball per Vivo, gran difesa di Falaschi, Laurenzano per Randazzo, il muro, attiene ancora Taranto, attacca la seconda linea, Sabbi, 12 pari, riceve Rizzo, Saita per Maurizio, 13 pari, Rizzo, Saita la palla in seconda linea per Nishida, per la Prisma Taranto, Falaschi, forza, tiene in ricezione Vivo, la pipe di Douglas, già in questo set, Maurizio, le ricezioni di Laurenzano, Falaschi per Palonski, out l'attacco, 16 pari, Ceverizzo, Sabbi per Douglas, spettacolare, Falaschi, Stefani, sì, vincente, 17 pari, lo vediamo Nishida, adesso, riceve bene Taranto, Falaschi per Stefani, e va bene, vediamo se la mette in campo, sì, è lunga la ricezione, può una free ball Taranto, con Randazzo, non la sfrutta, contraattacca Vivo, Douglas, impietoso, implacabile, in prima linea, 18-19, momento topico del match, ricezione di Palonski, l'attacco di Randazzo non va, ricostruisce Taranto, Laurenzano, Falaschi per Alletti, niente da fare, Basic, riceve Vivo, l'attacco di Basic, Murato può contraattaccare ancora Basic, la difesa di Laurenzano, Falaschi per Stefani, invasione, riceve Douglas, Saitta per Basic, money out, 22 pari, il momento è topico, Nishida non va, anzi era Basic, contraattacca ancora Vivo, il primo tempo di Flavio, il muro, Monster Block, primo muro per il centrale di Taranto, ma credo che sia invece appena il secondo, ancora Falaschi, Saitta per Nishida, timbrato da Stefani, e Taranto allunga il match, muro di Stefani, dunque 2-1 per Vivo, Taranto accorcia le distanze, 19-25, 17-25, 25-22, si va al quarto set, e Taranto è ancora una, un ace e vince!